Bettella, tanti complimenti a parte degli addetti ai lavori, ma noi lo dicevamo da un po', vedendoti in allenamento che avresti meritato una chance, l'hai sfruttata nelle ultime partite nel migliore dei modi. Sì, sono stato abbastanza contento delle mie due prestazioni, infatti ringrazio nuovamente il ministero, lo staff e i compagni. Certo, puoi fare di più, siamo convinti anche noi. Sì, sono due partite dove magari l'esordio, sono un po' più frenato, cerco di essere il più affidabile possibile, quindi mettermi a disposizione della squadra e poi ogni partita che giochi ricevi più esperienza, più continuità, quindi hai più libertà di gioco. Come stai in questo momento? Sei in dubbio? Io vado con la squadra a Venezia, mi alleno e sarà il mister a decidere il da farsi. Senti, è una partita fondamentale, no? Perché guardando i risultati voi siete stati alla finestra e vi è andata, direi, piuttosto bene. Sì, ci è andata bene, ovviamente mancano ancora due partite, quindi cercheremo di portare a casa due vittorie, che sarebbe il massimo, per poi puntare i play-off. Questa è la prima esperienza nel calcio dei grandi, diciamo così. Qual è la differenza sostanziale? Adesso che hai giocato un paio di partite, c'è la prima cosa che ti è venuta in mente? Ovviamente cambia l'impatto con i tre punti, con la vittoria, la sconfitta, l'importanza dei contrasti, di tutti i duelli e di rimanere sempre concentrati, perché ogni errore può essere fatale. Se non erro tu sei padovano, no? Quindi torni a casa, più o meno. Sì, più o meno sono vicino a casa. Giocavo da piccolo sempre contro Venezia, col calcio padova, quindi sarà un ritorno molto bello. Ci saranno tanti amici, parenti, no? Sì, magari anche i miei ex mister che appunto venivano da Venezia, l'anara padova, quindi sarà un bel momento. Devo fare questa domanda, perché c'è una ragazza che ogni volta che andiamo in onda a una tua intervista commenta positivamente, ma è la tua fidanzata, Barbara, no? No, è mia mamma. Ah, scusa, questa è bella questa cosa. Devo dire che è una tifosa sfegatata, infatti ci chiedevamo magari. No, sì, sì, mi segue molto e spesso. È bello. Sì, sì, ho un bellissimo rapporto con lei e quindi mi diverto ogni volta a starci insieme, come col papà, quindi diciamo che senza di loro non avrei potuto fare questo che ho fino adesso fatto. Io mi scuso pubblicamente, signora, le ho dato qualche anno in meno, però la salutiamo caramente e con affetto. Grazie alla signora Barbara, la mamma di Davide. Sì. Grazie. Ciao.